Ti sei mai chiesto come Leonardo DiCaprio sia diventato uno degli attori più famosi e rispettati di Hollywood? Oggi ti racconterò la sua incredibile storia, una storia di talento, determinazione e grande impegno che lo ha portato dalle strade di Los Angeles al cuore del cinema mondiale. Leonardo Wilhelm DiCaprio nasce l'11 novembre 1974 a Los Angeles in California. Sin da bambino, Leonardo ha mostrato un forte interesse per la recitazione. Cresciuto in un quartiere difficile, ha dovuto affrontare numerose sfide, tra cui le difficoltà economiche della sua famiglia. Nonostante tutto, sua madre, che era una figura molto importante nella sua vita, ha sempre incoraggiato i suoi sogni, sostenendolo nella sua passione per la recitazione. La carriera di DiCaprio inizia molto presto, già nei primi anni 90, quando fa il suo debutto in televisione con piccole apparizioni in serie tv come Genitori in Blue Jeans. Ma è nel 1993, con il film Buon compleanno Mr. Grape, che il giovane Leo attira l'attenzione del pubblico e della critica. La sua interpretazione di un ragazzo con disabilità intellettiva gli vale la sua prima nomination agli Oscar, mettendolo sotto i riflettori del mondo del cinema. La vera svolta, però, arriva nel 1997 con Titanic, il film di James Cameron che lo consacra come star internazionale. Nel ruolo di Jack Dawson, DiCaprio riesce a catturare il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo, trasformandosi in un'icona culturale. Titanic diventa uno dei film di maggior successo di tutti i tempi, e Leonardo, a soli 23 anni, si trova a gestire una fama improvvisa e travolgente. Nonostante il successo, DiCaprio ha sempre cercato di non limitarsi a ruoli banali o semplicemente commerciali. La sua carriera è caratterizzata da una costante ricerca di ruoli complessi e sfidanti. Ha collaborato con alcuni dei più grandi registi del nostro tempo, come Martin Scorsese, con il quale ha girato capolavori come Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Il Bene e il Male e The Wolf of Wall Street. Questi film hanno mostrato la versatilità di DiCaprio e il suo impegno nel dare vita a personaggi profondi e spesso tormentati. Ma Leonardo non è solo un attore talentuoso, è anche un attivista impegnato. Da molti anni, DiCaprio utilizza la sua notorietà per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo ai problemi ambientali, in particolare il cambiamento climatico. Nel 2006 ha fondato la Leonardo DiCaprio Foundation, un'organizzazione che sostiene progetti per la tutela della biodiversità e lo sviluppo di soluzioni sostenibili per il futuro del nostro pianeta. Nel 2015 il suo documentario Before the Flood ha fatto il giro del mondo, evidenziando l'importanza di agire subito per proteggere il nostro ambiente. Nel 2016, dopo numerose nomination, Leonardo DiCaprio finalmente vince il tanto atteso premio Oscar per la sua straordinaria interpretazione in The Revenant. Questo traguardo non è solo un riconoscimento del suo talento, ma anche una testimonianza della sua dedizione e perseveranza. DiCaprio non si è mai arreso, nemmeno di fronte alle delusioni, ed è proprio questa sua mentalità vincente che lo ha portato a diventare una delle figure più rispettate di Hollywood. Oggi Leonardo DiCaprio continua a recitare in film di successo e a lottare per le cause in cui crede. La sua storia C insegna che con determinazione, impegno e passione è possibile superare qualsiasi ostacolo e raggiungere i propri obiettivi, anche quando sembrano impossibili. Se ti è piaciuta questa biografia e vuoi continuare a scoprire storie ispiratrici come quella di Leonardo DiCaprio, iscriviti al canale Mindset Vincente. Qui troverai sempre contenuti che ti aiuteranno a rimanere motivato e a coltivare la tua mentalità vincente. Non dimenticare di lasciare un like al video. È un piccolo gesto che ci aiuta a crescere e a continuare a offrirti il meglio. Ci vediamo nel prossimo video!